Ancora poche ore, il cielo notturno, là dove è sereno, si illuminerà con i fuochi d'artificio delle geminidi. Il picco dello sciame meteorico è infatti previsto per la notte fra il 13 e il 14 dicembre, quando potremmo arrivare a vedere fino a 120 stelle cadenti all'ora. All'origine del fenomeno, celebrato oggi anche da Google, che per l'occasione gli dedica un doodle con il percorso dello sciame nell'atmosfera terrestre, all'origine del fenomeno, dicevamo, c'è l'incontro dell'orbita del nostro pianeta nella sua rivoluzione attorno al Sole con la scia dei frammenti persi dall'asteroide Fetonte, una roccia da oltre 5 km di diametro la cui orbita incrocia quelle di Mercurio, di Venere, della Terra e di Marte. Grazie 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 Grazie